Ciao, oggi è un video che non è esattamente di educazione cinofila ma vi spiego come fare a contattarmi o a chiedere il mio aiuto se ne avete bisogno. In tutti i miei video io pubblicizzo il mio canale telegram come il sistema migliore per mettersi in contatto con me ed effettivamente è così perché è come Whatsapp però io non devo mettere in questo modo il mio numero a disposizione di tutti e chiunque mi può comunque contattare personalmente sul cellulare. Però le richieste cominciano ad essere veramente troppe e soprattutto ricordatevi che alla fine per me questa è un'attività lavorativa per cui io sono sempre disponibile a dare dei consigli, piccoli consigli o delucidazioni sui video che pubblico e sui consigli che do gratuitamente nei miei video però quando si va un po' più sul tecnico le cose diventano un po' più complicate beh lì bisogna parlare di una vera e propria consulenza. Allora ho deciso di mettere un po' d'ordine. D'ora in avanti chi mi deve porre delle domande che siano abbastanza semplici non troppo complicate in modo che io possa rispondere o con un messaggino o quando l'argomento è molto interessante facendo un video apposta in modo che le vostre domande siano utili anche agli altri lo può fare seguendomi su Instagram dove io una volta alla settimana pubblicherò il classico la classica storia di Instagram dove dice fammi una domanda raccoglierò le domande più interessanti a quelle più interessanti risponderò o con un video o con un messaggio che possono comunque leggere anche gli altri ripeto perché voglio che poi queste domande siano utile a tutti. Rimane invece sempre valida l'opzione di farmi delle domande più specifiche su Telegram utilizzatela però per farmi delle domande che portino poi a una vera e propria consulenza, consulenza che sarà anche a pagamento. Le consulenze io le faccio da quando c'è stato il Covid per via telematica in video chiamata e devo dire che funziona benissimo perché come dico spesso ma lo ripeto io non insegno ai cani insegno ai padroni e si può fare quindi facilmente con una video telefonata, una video call e quindi d'ora in poi questi saranno i miei contatti. Quindi assolutamente mi dovete seguire su Instagram trovate in descrizione il link e in sovraimpressione tutti i dati. Seguitemi anche su Facebook e ovviamente su YouTube non dimenticate di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina delle notifiche e condividere i miei video. Ah, soprattutto prima di farmi una domanda controllate che io non abbia già dato la risposta in uno dei miei video perché spesso capita così. Ciao! 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 Ciao!